270 incontri a settimana alle tre IPAB di Vicenza, Trento, Salvi, Monte, Crocetta per gli ospiti che vi soggiornano anche se sotto restrizioni anti-covid che hanno penalizzato le visite dei parenti. Da oggi l'apertura agli incontri di persona come abbiamo documentato con la signora Aida che ci ha detto la sua età. Cento e sette. Signora Aida è tante? Cento non si conta, è più sette. Da quanto tempo non abbracciava, non baciava suo figlio? Mi dicevo, vai cinque e uri, sette. Centosette anni e non sentirli con la gioia di chi finalmente è riuscito ad abbracciarla. È un cuore proprio che si apre. Ci hanno sempre fatto le videochiamate, ci hanno sempre... Però è diverso. Sono stati bravi, sì, certo. Visite di parenti dunque da oggi si cambia. Green Pass o tampone negativo al massimo 48 ore prima, non più di due cari se non conviventi. Fra loro vi è ancora di più l'obbligo di distanziamento, mascherina, igienizzazione delle mani. Patto di condivisione del rischio, ovvero mi impegno a rispettare tutte le norme ma condivido il fatto che vi è una diminuzione del livello di protezione dal contagio. Mentre per i nuovi ospiti è stata eliminata la quarantena di 14 giorni per gli ospiti vaccinati e per gli ex positivi da meno di sei mesi. Le new entry non vaccinate dovranno invece effettuare una quarantena di 10 giorni e sottoporsi quanto prima al vaccino. È stato emozionante vedere finalmente il primo abbraccio tra familiare ed ospite. Tra l'altro una signora di 107 anni e quindi ancora più significativo.